Benvenuti a Riflessi su Prima TV, canale 17. Oggi parleremo di amore, di gelosia e di tradimenti e ne parleremo con gli esperti del settore, con una psicologa, con uno psichiatra e con un avvocato divorzista. Ma prima vi voglio raccontare, anzi farvi raccontare una bellissima storia d'amore, quella tra Davide Silvestri e Alessia Costantino. Benvenuto, benvenuti! Ciao! Grazie! Allora, ovviamente già conoscete Davide, però ve lo presento. Davide Silvestri, attore e produttore di Birra Lira e finalista, ha fatto il secondo posto al Grande Fratello VIP, sesta edizione, nel 2022. È stato anche concorrente dell'Isola dei Famosi, ma insomma lo conoscete ampiamente. E Alessia Costantino, imprenditrice, è titolare della palestra Still Body di Agrate, provincia di Monza. Allora, voi... Sì, infatti mi sono preparata, ci ho provato. Allora, io vi ringrazio per la partecipazione oggi qui con noi e vorrei proprio partire con una domanda che riguarda la vostra storia d'amore. Davide, quando e come ti sei conosciuto con Alessia? La storia è molto buffa, perché è una cosa che non mi sarei mai aspettato, di conoscere così la donna della mia vita. Ci siamo conosciuti su un social network, su Instagram, con un cuore. Tramite un'amicizia in comune, un giorno vedo apparire un cuore, dico un like, un semplice like. Da lì ho cominciato a seguire il profilo di Alessia, foto molto semplici, ma vi sembrerà strano, assurdo, ma anche per me lo è, lo è stato. Guardando le foto ho detto, ma è la donna della mia vita. Cioè, non l'avevo mai sentita parlare, non avevo mai visto neanche un suo video. Dalle foto ho detto, sono convinto che sarà la donna della mia vita. Quindi è da forza. È un colpo di fulmine, è stato un colpo di fulmine. Sì, ma un colpo di fulmine è assurdo, perché non l'avevo neanche mai vista, neanche mai incontrata per strada di persona. Quindi è stata una mia fissa, così, in un sesto senso, non lo so da cosa è stato scaturito, però guardando solo dalle sue semplici foto, io ho capito ed ero convinto che sarebbe stata la donna della mia vita. Non mi chiedere perché e per quale motivo, però così è stato in realtà. Quando, diciamo, Alessia, invece avete capito, anzi tu hai capito che anche per te c'era, diciamo, una, non dico un colpo di fulmine, non lo so se per te è stato lo stesso, anzi se puoi rispondere a questa domanda è stato lo stesso? Sì, sì, fin da subito ho capito che era una persona speciale e fin dai primi giorni proprio era proprio diverso. E quando avete capito che vi siete innamorati, chiedo da Alessia prima? Eh, io credo a distanza di qualche settimana e ho detto caspita questa persona è proprio fatta per me, a misura per me e poi ha un cuore enorme e questo piano piano l'ho scoperto poi nel tempo e ha semplicemente confermato la mia sensazione. Mi piace molto questa storia perché è particolare appunto, è stato tutto improvviso, ma è stato, cioè, quest'amore che comunque aveva dentro quasi una certezza già dall'inizio. Vero, sì. Sì. Quando Davide hai chiesto di sposarti? Io, intanto aspetta, volevo rispondere anche alla domanda, volevo rispondere anch'io alla domanda come ho capito di essere innamorato perché molto, io da quando l'ho vista poi al primo appuntamento quando sono andato a prenderla, che è uscita da casa sua, avevo confermato quella sensazione che avevo a pelle, cioè che non avevo a pelle, avevo, non si può dire a pelle, avevo a video, a Instagram, ho avuto quella sensazione. Quando l'ho vista dal vivo ho confermato la mia sensazione. Poi conoscendoci ho avuto sempre più conferme, ma la conferma poi definitiva, diciamo, l'ho avuta quando sono partito per il grande fratello. Ieri ci conoscevamo ormai da otto, nove mesi circa. Quando sono partito ho lasciato tutto in mano a lei, nel senso il mio conto in banca, il mio telefono, il mio cane, casa mia. Quindi io ho detto, guarda, devo fare questa avventura. Ovviamente eravamo consapevoli insieme quando, mentre stavo programmando l'entrata al grande fratello, lei era con me e mi ha dato appunto anche lei la carica per poter entrare. E poi la conferma l'ho avuta quando partendo, che la macchina è venuta a prendermi per portarmi poi dentro la casa in quarantena. L'ho vista andare via e lei è rimasta a casa mia, da sola, con tutte le mie cose, quindi tutti i miei contatti, e aveva in mano tutto lei. Io ho detto, beh, questa è la donna della mia vita, quindi dentro casa. Poi continuavo a pensare a lei, però ovviamente lì ho cercato di resistere e portare a termine il mio compito, quindi la mia avventura. Io sono anche un giocatore, mi piace giocare e divertirmi, quindi cercare di portare a termine il gioco del grande fratello. E mentre ero dentro ho capito che quando sarei uscito ci sarebbe stato qualcosa di importante. Il pensiero di Alessia all'interno della casa del grande fratello ti ha dato forza o, non so, le avevi affidato tutto? Quindi hai rischiato un po', no? Alessia, vero? Cosa ne pensi? Tu l'avresti fatto, Alessia è una cosa del genere. Io mi sono dita una bella responsabilità, però sono quelle cose che ti senti appunto dentro, e quindi ci siamo lanciati abbastanza tutti e due, consapevolmente comunque, perché sono delle sensazioni forti e quindi vai. Davide, quindi tu all'interno della casa non hai mai avuto dubbi oppure in qualche momento hai avuto un po' di tentennamenti? No, sempre questa certezza nel cuore. Mai dubbi, neanche dubbi miei di cedimento, mai, e neanche da parte sua. Sapevo che ero quasi convinto come se fossimo già una coppia ormai affiatata e solida da anni. Quando le hai chiesto di sposarti? Molto buffa la storia, eravamo in questa camera, dove stiamo facendo appunto adesso l'intervista, eravamo nel letto e ad un certo punto, parlando al nostro modo, scherzando, ci siamo detti scherzando, perché poi è diventata una cosa scherzando, ma seriamente, ci siamo guardati negli occhi e insieme abbiamo detto, ma pensate che bello, però sarebbe bello sposarci. Io non l'avrei mai pensato, perché neanche lei, anche lei non avrebbe mai pensato di sposarsi. Io idem, perché mi ho detto, ma tanto cosa serve sposarsi? Non cambia nulla. Invece cambia totalmente. In positivo. In positivo, cambia totalmente in positivo e tutto diverso. L'amore diventa tutto diverso, è come appunto avere, anche se non si è un figlio, però come avere un figlio, cioè quel contratto del matrimonio e della fedeltà per me ha davvero valore, perché quel nome e la fede, che abbiamo al dito, cioè avere una fede, ha un valore per me, ogni volta che la guardo è un simbolo. Quindi quella parola fedeltà è importante nell'amore come nell'amicizia, è la stessa identica cosa. Quindi nel letto ci siamo guardati e abbiamo detto, ma perché non ci sposiamo? Sì. Tu vuoi sposarti in chiesa? No, io no. Ok, domani mattina andiamo in comune, vediamo quando c'è la prima data libera. E così è successo. Bellissimo, ripeto, la vostra è una testimonianza un po' sui generi, cioè un po' più particolare rispetto a quello che magari normalmente si vive. Secondo voi oggigiorno è difficile trovare l'amore? È difficilissimo, secondo me è molto facile trovare l'innamoramento, trovare l'amore, io credo che sia come vincere una lotteria. Confermo. E quanto sono importanti invece i valori all'interno di una coppia e soprattutto quali sono invece i vostri valori in comune? I valori sono fondamentali, nel senso senza di quelli non si va avanti. È come stare su un treno, fare un viaggio con una persona che dopo un po' vedi una persona con cui parli, 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 però a un certo punto arrivi a parlare di cose, di argomenti differenti che non ti interessano più. E quindi a un certo punto uno prende, scelta e cambia vagone o prende un altro treno o cambia strada. Ecco, quindi nel viaggio della vita i valori sono fondamentali. Che sono secondo voi ai vostri? Il mio, penso che sia il tuo primo che racchiude tutti, come ti anticipavo prima, è la fedeltà. La fedeltà racchiude il rispetto, racchiude la lealtà, racchiude dentro tutti. È come l'amicizia, se non sai federe nel lavoro, nell'amicizia, nell'amore, alla fine perdi gli amici, perdi le persone belle, le perdi. Quindi per me la fedeltà. Alessia, per te? Per me anche ovviamente la fedeltà, ma il rispetto. Il rispetto è proprio alla base di qualsiasi tipo di rapporto, ancora di più in un rapporto di amore. Quindi fedeltà, lealtà, rispetto. E quando si litiga invece? Perché immagino che comunque, come in tutte le coppie, per quanto si possa andare d'accordo, c'è un momento in cui un conflitto nasce. Come lo affrontate? Ma guarda, allora, intanto litighiamo davvero, se facciamo le corno, litighiamo davvero poco, pochissimo, e sulle cazzate proprio. E litighiamo per colpa vostra. Non so se mi hai capito. Ma non so se mi hai capito. C'è l'invadenza dei giornalisti? No, colpa vostra di, non so come posso dirlo, aiutatemi, delle donne. Ah, delle donne, intendevi? Eh, vabbè Davide, purtroppo... Su questo non credo che hai tanto scampo. E così, litighiamo solo in quel periodo, cioè litighiamo per quella volta lì perché succedono delle cose assurde. Dico, ma stai scherzando? Sempre in quel periodo lì. Colpa vostra delle donne. Scusami, perché Alessia è una bellissima donna. Grazie. La controparte, da parte tua, non ci sta un po' di gelosia in questo senso? Per lei? No, perché... Non so che sei tranquillo. No, perché ti ripeto, è una cosa stranissima. Per quello abbiamo deciso di sposarci. Noi siamo due persone che eravamo uguali con i stessi ideali, i stessi pensieri. E quindi, dal momento che abbiamo deciso di sposarsi, di sposarci, diciamo che le nostre cavolate, le cose che bisognava fare, bisognava fare, si sono fatte quando si era giovani. Quindi io non ho più motivo. Io, personalmente, perché... Mi fido. Forse perché ho la coscienza pulita. Quindi, dall'altra parte, dal momento che ho visto che è una persona come me, penso che se abbiamo deciso di fare questa scelta non l'abbiamo fatta per gioco. Io ho sempre detto, se mai mi sposerò, dovrò essere fedele e devo comportarmi da uomo perché altrimenti mi ne sto da solo. Quindi, immagino che ci sia un progetto comune, un qualcosa che volete costruire insieme, che vi dà appunto la forza di mantenere anche questi valori. Assolutamente sì. Per quello mi sembra tutto così normale, tutto così scontato, che non ho gelosia. Nel senso che è una bella donna, anzi, mi piace se qualcuno la guarda, con il rispetto, perché altrimenti se non c'è rispetto, quello non mi piace. Ma diventa gelosia, diventa rabbia nei confronti delle persone che in generale non rispettano le donne. Prima vi stavo dicendo appunto, pensavo che intendessi giornalisti, che magari erano comportamenti invadenti, però qui vorrei chiedere questo, ma la notorietà comporta qualche difficoltà all'interno della coppia? Se sei persone intelligenti, persone umili e con la testa, per me no, però bisognerebbe chiedere forse a lei questo. No, assolutamente confermo. Nessun tipo di problema, appunto non stupida, ma altamente intelligente. e quindi sa gestire tutti i rapporti, qualsiasi cosa. Sì, perché poi bisogna appunto essere intelligente e capire anche il contesto in cui ci si viene a trovare, quindi chiaramente ci sono delle situazioni che magari, come prima parlavamo di gelosia, però è contestualizzata, è normale che magari lui potrebbe essere più soggetto rispetto a un altro uomo, per quanto ormai tutto il mondo e il paese, però diciamo è un poco più esposto, ecco, in tal senso. Certo. Alessia, quanto è stato difficile sostenere i sogni di Davide, visto che comunque è un personaggio dello spettacolo, quindi da te che magari non facevi parte di questo mondo, ormai adesso sei entrata anche tu in questo mondo, in un certo senso, perché non puoi esimerti da non essere coinvolta in qualche modo. Allora diciamo che Davide è un vulcano in continuo movimento, cioè appena decide un progetto e quasi l'ha realizzato, è già pronto per crearne un altro e subito ancora con un altro, cioè ha sempre mille iniziative, quindi io ho un po' di difficoltà a star lì dietro, a rincorrere tutti i suoi pensieri, tutte le sue idee, tutti i giorni ne ha sempre uno diverso. Però poi in realtà non è difficile stargli accanto sotto questo punto di vista, soltanto è una continua ricerca che mi tiene anche molto attiva, diciamo, quindi non c'è mai da addormentarsi o da annoiarsi. Davide, tu quanto sostieni i sogni di Alessia? Sempre, più che sostenere, a me piace lasciarla anche libera, perché tante volte se poi dai un consiglio sbagliato nella realizzazione di un sogno potresti poi sentirti magari in colpa. Io più che altro la proteggo e cerco di farla stare serena. Poi è libera anche di fare, di sbagliare, perché tante volte non riesci proprio a capire i sogni di una persona fino in fondo, quindi è meglio sempre, secondo me è vero, fare un pochino attenzione nel dare consigli, nel realizzare i sogni. È molto difficile. Però cerco comunque di tenere monitorato e di dare un pochino protezione e cercare di vedere magari anche un po' di là. Tu ti senti sostenuta? Sì, assolutamente. Anzi, lui mi aiuta proprio ad avere una visuale un pochino più a 360 gradi. Io magari tante cose ancora non riesco a vederle, magari vedo più le cose positive. Ah, che bello, ok. Io vedo molto il negativo. Facciamo l'entusiasmo, diciamo, della situazione di quel momento. Però la nostra differenza è che lei vede il positivo delle cose. Io parto sempre da cercare di trovare il negativo per poi, per proteggermi. Non perché io sia negativo come persona, però cerco di capire, se faccio questa cosa, quali potrebbero essere le cose negative? Perché quelle positive, per me, saranno positive e basta. Quindi cerco di capire quali potrebbero essere i problemi. che io invece non osservo. Diciamo che magari Davide si mantiene un po' con i piedi per terra e Alessia lo aiuta a non stare troppo con i piedi per terra, cioè in questo senso, se possiamo dire. Perché comunque l'entusiasmo ci vuole per portare avanti i progetti, per portare avanti tutto. Però certo, non bisogna neanche non vedere la realtà, perché altrimenti poi, se si guarda troppo, si cammina guardando le stelle, magari non vedi il posto che c'è davanti. Quindi assolutamente. Vi compensate in questo senso. Complimenti, ragazzi. Allora, io vorrei farvi un'altra domanda. Per quanto riguarda sempre i sogni, i vostri sogni, voi avete rinunciato a qualcosa per il vostro partner? No. Non l'abbiamo io, non ho dovuto rinunciare a nulla. La mia vita è migliorata, però non ho dovuto fare troppi cambiamenti. ma anzi, è solo che migliorata. Per me anche, assolutamente. È soltanto stata una crescita insieme, ma rinunce zero. Da questa intervista stiamo un po' vedendo le vostre strategie vincenti per far funzionare una coppia, che sono quelle appunto di valori condivisi, valori che comunque si mettono al primo posto, al centro, un po' anche l'altra persona. e poi anche quello di sostenere i sogni dell'altro, addirittura di non fare rinunce, perché è importante non sacrificarsi troppo e brillare a prescindere dal nostro partner, anzi con il nostro partner. Esatto. Mi piace molto, diciamo, come punto di vista. Secondo voi, qual è il punto forza della vostra coppia? La complicità. La complicità. Sì, noi facciamo i cretini, sempre, anche se guardate anche le nostre storie su Instagram, siamo così come ci vedete proprio per quel poco che mettiamo su, che potete vedere dalla nostra vita privata, ecco, di nascosto, che sono i social. Siamo così, quindi facciamo i cretini, ci divertiamo, proprio come, come se fossimo con un amico a fare gli stupidi. Diciamo che la mattina ci svegliamo sempre ridendo, quindi partiamo proprio col sorriso, le giornate iniziano così. Poi io faccio un sacco di, faccio gli scherzi, le faccio spaventare, c'è roba che ci sono i vicini che a volte dico, ma aspetta, non urlare, che magari pensa che ti sto facendo del male, si mette a urlare, a ridere, a piacere. no, cioè è stato fortunato perché non tutti magari con gli scherzi la prenderebbero bene, quindi se Alessia ha questo senso dell'umorismo brava, complimenti. Io lo so, penso che mi sarei arrabbiata dopo un po'. No, a volte dico, guarda che mi fa esplodere il cuore, perché mi fa proprio spaventare. Dico, stai attento che ci rimango secca. Ragazzi, è una santa Alessia, ve lo dico, è una santa. Invece abbiamo parlato dei punti di forza. Invece su che cosa secondo voi dovreste lavorare ancora come coppia? Quindi il punto, diciamo, di debolezza da rinforzare. Ma io crederei, io chiederei solo alla madre natura di cambiarvi, ecco, di fare il montaggio, di togliervi quel periodo. Si può fare? Credo. Di togliere il periodo delle donne. Penso che devi accontentarti, diciamo, di quello che già hai. Che dici Alessia? Secondo te che cosa, qual è questo punto di debolezza? in realtà non lo trovo un punto di debolezza. Forse proprio è soltanto quando siamo tanto stanchi, ecco, forse se siamo stanchi, stressati, allora si accende un pochino la miccia, ma in realtà poi con un sorriso e con un bacio si ritorna tutto come prima. Avete progetti futuri? Prima abbiamo parlato di questa vostra voglia comunque di costruire adesso il passato avete comunque ognuno fatto ovviamente le sue esperienze ma adesso avete in comune questa voglia di costruire qualcosa. Quali sono i vostri progetti futuri? Il mio lavorativamente parlando giusto? Intendi lavorativamente? 360 gradi lavorativamente ma anche di coppia. Lavorativamente è quello di portare avanti il mio progetto di birra lira che è un progetto che mi ha salvato comunque la mia vita il mio modo di pensare il mio modo di vivere mi ha dato la mia indipendenza nel senso che mi ha aver creato qualcosa dove sono io che decido sono io che ho il potere di tutto quindi del mio futuro quello che mi ha appunto salvato in un periodo di cambio della mia vita quindi di portarlo avanti portare avanti il progetto di birra lira la distribuzione quindi di avere la mia birra in tutta Italia e questo è il mio sogno lavoro attivamente parlando Alessia l'ultima domanda il mio ho appunto una palestra è quella di riportarla a dei numeri pre-covid perché purtroppo siamo ancora un pochino soffrendo il post-pandemia e poi è quello di aprirne un'altra quindi di avere due centri quindi vi state focalizzando fondamentalmente più sul lato lavorativo per entrambi allora io vi auguro veramente il meglio di coppia che abbiamo terminato il tempo viaggiare tanto quindi crescere anche da un punto di vista esperienziale diciamo che poi diventa sia personale che di esperienze fatte insieme ragazzi io vi ringrazio tantissimo per questa intervista spero comunque che ci saranno altre occasioni grazie ancora per essere stati qui con noi oggi a Riflessi arrivederci e a tanti tanti auguri per il futuro grazie ciao ben ritrovati a Riflessi oggi stiamo parlando di amore gelosia e tradimenti abbiamo visto abbiamo assistito alla bellissima storia d'amore di Davide Silvestri e Alessia Costantino e ora siamo qui in studio con noi con i nostri ospiti gli esperti del settore abbiamo la dottoressa Maria Carmina Marzullo psicologa psicoterapeuta cognitivo comportamentale il dottor Massimo Lanzaro psichiatra e psicoterapeuta è stato primario al Royal Free Hospital di Londra direttore sanitario in Italia e in Inghilterra autore di vari volumi tra cui affetti in affitto e abbiamo poi il nostro avvocato Gianni Pucca avvocato matrimonialista e scrittore umorista benvenuti a tutti grazie grazie allora io vorrei partire dall'avvocato in realtà una domanda avvocato ma secondo lei che cos'è l'amore? l'amore è un sentimento indispensabile è uno dei più sottovalutati ultimamente perché sento dire a molte persone che preferiscono restare soli sento ripetere una serie di luoghi comuni sull'amore però ho visto che prima avete intervistato Davide Silvestre ma manco a farla apposta noi siamo diciamo lontani parenti i nostri nonni erano cognati all'epoca si rispettava quella promessa che si faceva in chiesa finché morte non vi separi io purtroppo dalla mia esperienza professionale di 26 anni di separazione e divorzi si vede che ormai questo vecchio brogardo ormai è stato superato infatti il primo libro umoristico che ho scritto tratto l'esperienza professionale si intitolava finché l'avvocato non vi separi e ci sta ci sta poi abbiamo scritto altri libri insieme sul tema il manuale del perfetto traditore che poi uno dei visto che era uno degli argomenti del giorno una delle cause principali delle separazioni purtroppo è il tradimento avvocato lei è espertissimo su questo perché proprio avvocato divorzista matrimonialista quindi diciamo ne sente e ne vede di tutti i colori però io sono romantico anche se vedo queste cose non ha perso la speranza lei no ma i sognatori non perdono mai la speranza assolutamente anche se vedi hai prova contraria tutti i giorni di matrimoni che finiscono anche per delle sciocchezze chi è nato in una famiglia con determinati principi è cresciuto nell'amore non si fa condizionare poi da da segnali diversi e quindi continuo a credere anche se ho appena da poco compiuto per la seconda volta 25 anni e ancora personalmente non ho trovato la persona giusta ma non escluso nei prossimi 25 o negli altri ancora possa incontrarlo avvocato farò la stessa domanda anche alla dottoressa Marzullo che cos'è l'amore dottoressa? l'amore è un sentimento molto forte che ci permette di evolverci sul nostro divenire e cosa ne pensa di quello che ha detto l'avvocato? sì concordo pienamente quello che dice perché è una forza che ti permettere di perfezionarti sul tuo divenire di crescere il nostro cuore è deputato è l'organo deputato a sentire l'amore e poi la nostra coscienza invece a tradurre l'amore in comportamenti di accoglienza di accettazione come dicevate prima nell'intervista di sostegno e partecipazione ai sogni delle persone con cui ami quindi tutti elementi importanti per far funzionare l'amore che dopo approfondiremo proprio con lei approfondiremo proprio questi temi dottor Lanzaro stessa domanda però io ho una spiegazione approfondita scientifica quasi su che cos'è l'amore cosa ne pensa delle risposte date fino adesso e poi che cos'è l'amore secondo un po' la scienza se si può fare un riassunto allora innanzitutto penso che una persona che dica di essere esperto di amore è come se dicesse di essere esperto di numismatica babilonese perché l'amore per molti versi rimane una dimensione misteriosa anche alle scienze e alle neuroscienze personalmente l'amore è come la gape schopenhaueriana è la cura verso il prossimo che poi è il motivo che mi ha spinto a fare il medico da un punto di vista neuroscientifico l'amore è come un pianoforte cioè è un complesso sistema di circuiti neurali e di neurotrasmettitori che noi abbiamo in comune con i mammiferi e di sostanze chimiche che vengono prodotte in determinate fasi a seconda del momento dell'amore in cui si si trova è come il pianoforte i tasti le strutture della mente e non del cuore sembra come invece ha detto la dottoressa Sivenza sembra sia tutto nella mente almeno stando alle neuroscienze affettive alla neuropsicanalisi quindi i tasti sono gli stessi sono disposti nella stessa maniera ma ogni specie e ogni individuo li suona in maniera differente c'è una differenza tra amore e innamoramento? certo l'innamoramento è un pupazzo di neve e l'amore è un ciocco che arde il pupazzo di neve è l'idealizzazione che avviene soprattutto mediata dalla dopamina e dall'ossitocina nelle fasi iniziali dopo l'idealizzazione della persona amata si può o andare verso la direzione della svalutazione l'opposto dell'idealizzazione è in quel caso difficile che le cose proseguano oppure verso l'accettazione la comprensione e la conoscenza della persona fino ad arrivare ad amare i suoi difetti e in quel caso è probabile che cominci una relazione d'amore dottoressa Marzullo il dottore ci ha dato una bella spiegazione vorrei chiedere a lei quali sono gli elementi che fanno funzionare una coppia allora la coppia forte è la coppia che ogni membro ha un io molto chiaro sa cosa le piace non le piace se l'oggetto di questo piacere ha una cornice morale il bene sono consapevoli delle loro responsabilità nel costruire una vita insieme hanno un senso di riuscita molto forte ma soprattutto loro si sentono entrambi degni di amore e di meritare un progetto d'amore l'amore poi ti porta a proteggere a custodire la tua vita all'interno della coppia e ti porta a amando i frutti dell'amore sono proprio smascherare tutti i travestimenti del tuo nemico e quindi perciò con l'amore difendi e proteggi e custodisci la relazione stessa perché proprio amando raggiungi quell'intelligenza che per avere una vita serena e felice si devono avere delle sane alleanze ma bisogna essere soprattutto fedeli a se stessi e poi al progetto d'amore che si partecipa come diceva il dottore prima con la mente con la consapevolezza di sapere ciò che stai costruendo un divenire cioè sei un bambino poi un adolescente un fidanzato un genitore perché no dei nonni affettuosi quindi degli esempi diciamo di amorevoli compassionevoli di accettazione sì l'io forte costruisce perfeziona l'umanità che si ha dentro sono le funzioni di coscienza si perfeziona l'accettazione la condienza il partecipare il sostenere vorrei chiedere una cosa all'avvocato prima con Davide e Silvestri abbiamo parlato dell'importanza dei valori all'interno della coppia lei per la sua esperienza personale nei casi in cui appunto le coppie hanno finito poi per divorziare questi valori erano comuni non erano comuni si partiva svantaggiato oppure nel corso degli anni queste coppie magari hanno perso il punto diciamo da cui erano partiti in un certo senso i valori in comune allora dalla mia esperienza anche se non è possibile fare una statistica certa in questo senso non mi ha fatti la sua esperienza fondamentalmente no vabbè volevo dire una cosa che molto spesso le persone che sono cresciute nell'ambito di una famiglia con genitori separati hanno questa tendenza a ripercorrere lo stesso idere dei genitori anche se poi invece in alcuni casi succede l'esatto contrario per esempio dei ragazzi che hanno sofferto molto dalla separazione dei genitori tendono invece a proteggere i figli da un'eventuale separazione stanno più attenti a scegliere il partner per evitare di soffrire in un'altra fase anche come in questo caso non più come figlio ma come come conige i valori sono fondamentali dicevo nella mia esperienza diretta sinceramente io ho fatto tantissime separazioni però nel giorno in cui capiterà se capiterà di avere una di sposarmi di avere un figlio la separazione la vedrei sempre come un'extrema razio non come adesso come la prima come una soluzione a un problema io vedo i miei genitori così come vedo i miei nonni così anche come i nomi ineditati che li ho conosciuti fin quando non ci sono stati più non è che loro non avevano problemi i nostri genitori i nostri nonni avevano gli stessi identici problemi nostri forse peggiori dei nostri più grandi nostri che a meno abbiamo una condizione economica diciamo migliore rispetto a quella a quella loro però loro i problemi li affrontavano li risolvevano non se ne scappavano con un divorzio non scappavano dai problemi e non non andavano dall'avvocato per la prima sciocchezza io spesso sento perché per teologia professionale prima di intraprendere un percorso uno deve chiedere quali sono i motivi che li hanno portati alla separazione se hanno figli e sento veramente delle motivazioni inesistenti la soddisfazione invece di questa mia professione per esempio io ho avuto un esempio bellissimo è venuta una nonna cioè la mamma di un mio cliente che mi ha ringraziato non per aver vinto la causa noi abbiamo fatto pure la causa è finita le separazioni non vince mai nessuno abbiamo ottenuto un ottimo risultato ma il risultato che mi ha gratificato è stato quando la nonna è venuta a salutarmi a ringraziarmi perché il figlio è ritornato con la moglie avevano due bambini piccolissimi io ho fatto un lavoro con entrambi che poi alla fine abbiamo fatto una consensuale e devo dire grazie anche alla collega di controparte a differenza di altre colleghe altri colleghi era molto poco aggressiva che in questa separazione purtroppo molto lo fanno gli avvocati che sono molto aggressivi e inutilemente aggressivi perché girano soldi esattamente e grazie anche a magistrato che non ricordo come si chiama perché è la prima volta che l'ho incontrata però è stata una persona dolcissima magistratta di notizia ha capito la difficoltà di questi ragazzi due ragazzi giovanissimi ha capito che loro non avevano nessuna intenzione di separarsi però subentrano le famiglie la sua c'era di una parola la sua c'era di una parola la sua c'era di una parola era psicologica in realtà era tutt'altra e con una mediazione diciamo con dolcezza insomma con una certa delicatezza magari nel conturre la mediazione siete riusciti a concludere felicemente questa situazione magari un ragazzo cresciuto in un certo ambiente magari per lui dare uno schiaffo alla moglie è una cosa normale che l'ha visto fare magari in alcuni ambienti purtroppo alcune donne pensano che sia normale la violenza e anche per la donna sembra normale subirlo invece se poi gli fai capire che certe cose sono sbagliate non stanno né in ciro né in terra loro divaldano la questione da un altro punto di vista allora dottor Lanzaro l'avvocato è molto ottimista noi che siamo professionisti nel settore diciamo comunque sanitario psicologico questo tipo di cambiamento non sempre è così intuitivo è molto molto complicato secondo lei questa quella ritornando alla domanda principale quella sui valori quanto sono effettivamente importanti per una coppia i valori per una relazione sana sono fondamentali valori che la nostra cultura magari ci porta a rispettare a rispettare con difficoltà come la complicità la collaborazione invece della competizione la fedeltà che è un simbolo dell'amore che in fondo è come un numero cantiano cioè l'amore non è esperibile con i cinque sensi ma ne vediamo i simboli il contratto il fidanzamento il matrimonio anche un bacio è un simbolo dell'amore ma non è l'amore una cosa interessante è che ci sono degli studi di risonanza magnetica funzionale che confermano quello che stava dicendo l'avvocato prima e cioè bambini che non hanno vissuto in un ambiente con amore incondizionato o che sono stati accuditi con dei pattern di attaccamento non sani hanno più difficoltà a sviluppare relazioni amorose sane e durature e questo è stato messo in relazione sempre dalle neuroscienze alla densità di recettori soprattutto dell'ossitocina e della vasopressina che sembrano che non sono due ormoni ma sono anche due neurotrasmettitori nel nostro organismo ci sono molte sostanze che hanno la stessa struttura peptidica per esempio e si comportano come ormoni per esempio la vasopressina è un ormone antidiuretico sembrerebbe non entrare a far parte di questo discorso eppure si è visto che è importante come neurotrasmettitore nel bilanciamento a lungo termine delle relazioni durature quindi comunque la scienza ci aiuta anche un po' a capire in quali caso la relazione può durare oppure no anche grazie a questi neurotrasmettitori a un meccanismo chimico fisiologico che avviene nel nostro cervello io però vorrei chiedere un'altra domanda alla dottoressa sempre riguardante i valori dottoressa quindi quanto sono importanti appunto i valori i valori sono importantissimi perché ti portano proprio ti spingono nell'evoluzione nel tuo divenire e ti permettono di rinnovare le tue abitudini con l'altra persona perché le abitudini relazionali vanno rinnovate e lo scopo delle abitudini è nutrirsi sempre a vicenda quindi stimolare sempre di più le proprie sensibilità i propri bisogni e offrire sempre dei comportamenti nutritivi quindi in quale caso la coppia cresce grazie a questi nutrimenti prego in quali casi appunto la coppia può crescere grazie a questi nutrimenti di cui stavo parlando cresce migliorando sempre di più la propria umanità le funzioni semplici di coscienza l'accoglienza il sapere ascoltare essere attenti la coppia che ha salute ha proprio una fisiologia particolare quando stai vicino a loro ti senti proprio a casa e senti proprio la loro sicurezza poi rispettano l'alternanza del ritmo dei passi relazionali che nel parlare cioè mentre parli si guardano negli occhi hanno una mimica facciale cordiale attenta hanno dei gesti aperti e quindi si ascoltano profondamente traducono insieme le loro sensibilità responsabilità e costruiscono il proprio divenire insieme quindi diciamo questo è un po' un collegamento con quello che stava dicendo il dottore di quello che poi invece avviene anche a livello chimico fisiologico secondo voi oggigiorno quanto è possibile portare avanti questo tipo di valori di cui stiamo parlando associati all'amore perché penso che oggi le cose siano un po' cambiate quindi ci sono anche altri valori oltre questi che abbiamo nominato perché per esempio prima parlavamo di fedeltà dottore la fedeltà la sua idea di fedeltà non è la mia idea di fedeltà e oggigiorno questi diciamo queste discrepanze queste questo non valutare attentamente il senso che diamo alle parole che diamo a quello che sono i nostri valori quanto può poi metterci in conflitto con l'altro comunque creare fraintendimenti io farei una gerarchia partirei dai meccanismi istintuali biologico evoluzionistici la fedeltà ha una sua ragione d'essere nell'evoluzione per il maschio perché garantisce che la prole sia la sua e per la femmina perché garantisce di avere un supporto nell'accrescimento della prole su questi meccanismi biologici si innestano degli strati culturali prima individuali e poi collettivi che spesso hanno a che vedere con l'ego il prestigio dell'ego e questa è una fase che deve essere superata per arrivare a aprirsi all'altro aprire se stessi terminare i giochi è poter sperimentare una reale fiducia una reale intimità ci sono dei passaggi da fare l'amore quindi non prescinde a questi valori quindi quando si parla di che non c'è un rispetto che non c'è una fedeltà comunque la base in una coppia dove non possiamo parlare effettivamente di amore da quello che state dicendo sto cercando un po' di capire il senso effettivamente l'amore è vero l'amore è amore quando ci sono questi valori condivisi perché il tratimento è innanzitutto una mancanza di rispetto quindi se uno non tutela il partner non pensa che questo gesto possa provocare una sofferenza per me non è amore questo ben ritrovati a Riflessi stiamo parlando di amore tradimenti e gelosie con la dottoressa Maria Carmina Marzullo il dottor Massimo Lanzaro e l'avvocato Gianni Puga avvocato prima lei ci stava facendo un discorso sul tradimento che però prima di affrontarlo io vorrei parlare invece di un attimo della gelosia perché spesso prima diciamo di arrivare anche al tradimento ci sono anche dei piccoli segnali di gelosia anche prima e dopo il tradimento in un certo senso quindi c'è un collegamento con l'argomento per quanto riguarda la gelosia dottoressa quando una persona diventa gelosa in quali occasioni? Allora la gelosia diciamo che è un'emozione anche funzionale all'interno di un rapporto di coppia il problema è quando ce n'è è troppa di solito crea insicurezza tutto ciò che quando nei rapporti ci sono delle richieste un po' surreali cioè quelle richieste che non servono a nutrire la propria anima il proprio io ma sono quelle richieste dove tu surreali perché alimentano l'aggressività di uno del partner quindi è la è la strada che porta poi al tradimento perché il tradimento poi è un frutto di un lungo tempo che tu usi nel compiacere senza avere l'esperienza perché poi nell'amore c'è anche l'esperienza che la vita si fa sulla base di principi di giustizia quindi già incominciare a tradire te stesso e non accettare dei comportamenti che non sono nutritivi per il tuo vivere è proprio la base e quindi in questo su questo terreno poi si sviluppano delle gelosie perché la gelosia poi c'è anche una base biochimica e il non stare molto tempo insieme sviluppa questi sentimenti che vuoi controllare e lì significa che è nata una gelosia che poi porta ad altro a non continuare al controllo dell'altro dottor Lanzaro che cos'è la gelosia come si controlla la base biochimica della gelosia va cercata nel nel sistema limbico che è una parte ancestrale del cervello ma non scendiamo troppo nei dettagli su questo e mi riallaccio al discorso della dottoressa per percorrere un continuum lei ha parlato di una gelosia funzionale poi c'è una gelosia distruttiva che è quella legata soprattutto ad insicurezze e bassa autostima che porta a comportamenti controllanti richieste insistenti fino alle profezie autoverificantesi cioè la gelosia che porta al tradimento laddove il tradimento non ci sarebbe stato tradimento tra virgolette perché io non credo si possa tradire un'altra persona credo si possa tradire solo se stessi e in questo continuum poi c'è la gelosia patologica che è il delirio di gelosia ovvero quando una persona si convince in maniera assolutamente falsa che la persona lo sta tradendo a questo proposito suggerisco un bellissimo film di Claude Chabrol che si chiama L'inferno con Emmanuel Beard dove è illustrato in maniera magistrale chirurgica come si sviluppa e quali conseguenze nefaste può avere una gelosia distruttiva prima e poi un delirio di gelosia Dottoressa quindi diciamo che la gelosia diventa comunque un qualcosa che riguarda anche la profezia che si autodempio come diceva il dottore ma la sincerità non dovrebbe aiutare facilitare in qualche modo diciamo il prevenire questo tipo di sentimento questo tipo di emozione che è la gelosia Sì la sincerità nei rapporti va coltivata tutti i giorni è un'espressione proprio libera dell'anima e non è la sincerità non è che hai fortuna nella vita e la incontri la incontri se la riconosci perché c'è sempre in tutte le relazioni però bisogna coltivare dicendo sempre ciò che piace non piace riconoscere le possibilità all'interno delle situazioni e quindi alimentarla nel tempo e stranamente si ha paura della sincerità e non si ha paura di dire la bugia quindi diciamo che la sincerità diventa comunque un elemento importantissimo della relazione amorosa quindi sentimentale dottore lei ha scritto un libro che si chiama Affetti in affitto allora nel suo libro che abbiamo qui facciamo vedere Affetti in affitto del dottor Massimo Lanzaro Buknes giusto all'edizione lei comunque affronta un po' i temi che riguardano appunto le relazioni d'amore ma in questa situazione attuale in questa società attuale dove c'è un po' una cultura dell'uso e getta anche delle relazioni come possiamo prevenire un po' come possiamo proteggere la nostra salute mentale perché poi diventa un po' un elemento diciamo di destabilizzazione no? Non avere una sincerità alla base non avere un rapporto consolidato non avere quei valori di cui abbiamo parlato fino adesso e che poi ovviamente è collegato alla gelosia insomma abbiamo tutto io oltre che di sincerità parlerei di autenticità e spontaneità che sono alla base di un rapporto amoroso e che sono la conquista di un percorso di lavoro su di sé la nostra società è quella di Bauman è quella dell'amore liquido e della solitudine del cittadino globale cioè una società diventata molto più mutevole molto più transitoria in cui i valori sono sono cambiati e le persone che hanno più difficoltà ad adattarsi nella società liquida sono quelle con i cosiddetti tratti di personalità o borderline o narcisistici che poi lungo un continuum natura non faci saltus si possono avere degli tratti fino a avere un disturbo di personalità fino a un disturbo grave di personalità che può condizionare quello che non è più amore ma diventa quello che secondo le espressioni di moda diventa l'amore tossico che può portare anche a eventi di cronaca nera quelli che leggiamo sui giornali ogni giorno quindi passiamo da questa società liquida dove diventa tutto un usare un po' l'altro in un certo senso comunque nella difficoltà di adattarsi a quello che sono delle relazioni stabili che sono importanti per costruire un futuro quindi c'è un clima di incertezza una cosa che non ho detto è che le relazioni usa e getta vanno bene purché entrambi siano consapevoli e d'accordo sui termini del contratto tra virgolette cosa che spesso non avviene infatti qui parliamo di tradimento quando questo non avviene c'è un tradimento oppure quando la cosa nasce come usa e getta poi a lungo termine una persona si innamora e quindi viene meno al contratto di magari passare una bella serata una bella settimana se entrambi sono d'accordo su questo l'uso e getta così va bene se invece uno dei due viene meno all'accordo cominciano i problemi dottoressa che cos'è un tradimento il tradimento è un frutto di un lungo percorso dove tu stai in rapporto ma partecipi compiacendo l'altro partner e non riesce a riconoscere che ci sono delle abitudini che non rinnovano l'umanità all'interno del proprio carattere e non progredisci proprio nel divenire c'è una fase molto lunga perché tra fidanzati e sposati è piccolo il tempo ma dall'essere sposi genitori e nonni poi ci sta proprio un lungo tempo dove tu con l'intelligenza riesci a rinnovare quelle abitudini che poi ti portano a evitare un tradimento diventa una sorta di rompere le abitudini il tradimento uscire fuori dalle abitudini consuete ma è sempre bisogna sempre sapere bisogna sempre negoziare nel rapporto dei riconoscimenti etici proprio costruttivi e lo devi fare con come diceva il dottore all'inizio con la testa avvocato i tradimenti in tribunale quando si porta diciamo davanti al giudice una situazione di di tradimento non fatemi dire allora secondo la la Cassazione e anche ormai la giurisprudenza di merito per essere causa di un addebito il tradimento deve essere la causa principale della separazione non la conseguenza di una separazione di fatto già verificatasi che significa che se un rapporto già non funziona per altri motivi ognuno ha delle storie parallele o comunque decidono di non avere più rapporti vivono separati in casa e nell'ambito di questo rapporto diciamo fittizio che continua a volte per comodità per i figli loro dicono per i figli ma secondo me questi rapporti che durano in maniera falsa per i figli sono contoproducenti anziché essere effettivamente fatti per il bene dei figli in quel caso non c'è un addebito della separazione che quel tradimento non è stata la causa della separazione è stata una conseguenza di una separazione che in realtà già sarà verificata l'affeczio coniugale ormai già non esisteva più quindi nel momento in cui è la conseguenza di un rapporto che già si è disegregato non c'è alcuna conseguenza neppure da un punto di vista giuridico invece nel momento in cui è la causa principale della separazione le conseguenze possono essere riconoscimento dell'addebito a carico di chi ha commesso il tradimento e questo come conseguenza porta la perdita della segna di mantenimento la perdita dei diritti successori quindi ha delle conseguenze dal punto di vista giuridico grazie avvocato vorrei chiedervi ancora un altro argomento sul tradimento che è quello del tradimento virtuale avvocato il tradimento virtuale è un tradimento giuridicamente è un tradimento quello che infatti stavo cercando di dire prima è che i tradimenti sono aumentati in maniera esponenziale grazie o a causa dei social perché c'è una possibilità maggiore di conoscere persone e poi dal tradimento virtuale nel 90% dei casi si passa poi al tradimento anche fisico quindi uno step precedente al tradimento effettivo che normalmente uno conosce sui social per poi conoscere di persona quindi approfondisce una conoscenza e semplicemente un gancio il social poi le persone si incontrano e consumano il tradimento ma nel caso di soltanto tradimento virtuale la legge cosa dice? è comunque un tradimento però diciamo che ci sono conseguenze diciamo diverse per esempio a debbi delle separazioni per un tradimento virtuale al momento non mi sono capitati era molto interessante quello che diceva prima il dottore ed è quello che poi si è verificato in molti casi che ho seguito che spesso la gelosia è causa del tradimento perché quella insicurezza del partner quella ossessione nell'imporre delle cose spesso porta poi a tradire effettivamente io in un mio libro che è un libro umoristico che però ha messaggi poi seri sulla famiglia sul rapporto amore eccetera innamore il perfetto traditore invento delle categorie che sembrano surreali il tradimento il tradimento preterintenzionale il tradimento per caso fortuito per forza maggiore che sono cose che diciamo fanno anche sorridere l'abbiamo presentato in tribunale con dei magistrati e degli avvocati ridevano a queste fatti specie surreali però in realtà anche quello per l'egittima difesa per esempio che si collega molto a quello che diceva prima il dottore uno alla fine tradisce proprio perché è estenuato dalle continue accuse false all'inizio e dice vabbè a questo punto lo faccio lo faccio veramente e succede perché loro ormai non credono più in quel rapporto che la gelosia prima quella funzionale come diceva prima la dottoressa è un tipo di gelosia che fa bene il rapporto perché si deve essere un po' gelosi del partner proprio poi quando diventa senso del possesso e diventa necessità di manipolazione poi si passa alla fase patologica e quella è una serie di conseguenze che sfusano o nel tradimento o praticamente nella fine del rapporto sicché è sempliciter grazie dottore tradimento virtuale quindi io sono d'accordo il tradimento virtuale è una nuvola grigia è un epifenomeno rivelatore del fatto che qualcosa non va nella coppia molto semplicemente quindi è un sintomo di malessere sì assolutamente dottoressa è un sintomo di malessere però è un antecedente molto lontano dal tradimento in sé per sé perché qua c'è proprio la carenza del stare insieme perché un bisogno che oggi viene molto sottovalutato è proprio la presenza fisica della famiglia dobbiamo di nuovo rinnovare queste abitudini di stare tanto tempo insieme perché è proprio la presenza fisica che nutrisce la persona anche se a volte però uno scappa è una cosa seria qui parliamo sempre di problematiche di relazioni familiari problematiche dove magari si vuole scappare da un problema invece che affrontarlo e ci si rifugia a volte in questi tradimenti virtuali perché il virtuale è un tradurre un vuoto interno quanto sia vuoto e quanto tempo nella giornata si esprime il vuoto dell'anima indica poi se hai la forza di proseguire in questo una domanda all'avvocato secondo lei c'è ancora spazio per l'amore nella società attuale deve essere spazio per l'amore io dico sempre che soffro più di moltitudine che di solitudine nel senso che soffro più quando sto in un rapporto che non mi rende felice a volte due persone sembrano troppe stando da solo in certe fasi della mia vita sto benissimo però la solitudine deve essere una fase deve essere una scelta provvisoria ma non si può pensare di stare da soli per tutta la vita per scelta per me chi dice questo dice falso o perché o sta da solo per scelta un'anima degli altri oppure perché è incapace di amare allora si sfocia nel narcisismo patologico perché amando se stessi solo se stessi ovviamente non si può amare gli altri e mi ha creato un asset per la domanda al dottore sul narcisismo patologico non si può pensare di stare da sole e di rinunciare all'amore perché l'amore è il senso della vita è quello che dà senso alla vita dottore quindi abbiamo parlato l'avvocato ha parlato di narcisismo patologico quindi cosa pensare in questa società attuale narcisistica come possiamo definire un po' quello che ha detto l'avvocato quindi questo tipo di relazioni che poi in realtà si sfociano a volte nel narcisismo innanzitutto non è la società essere narcisistica ma sono gli individui a essere narcisistici le cose più salienti su questo argomento le ha scritte molto probabilmente Heinz Koth che ha distinto un narcisismo primario da un narcisismo secondario uno buono da uno patologico fino poi ad arrivare al narcisismo maligno di una volta avuto una persona ricoverata il reparto vediamo se ci arriviamo il narcisismo buono è quello in cui la persona ha sufficiente autostima non grandiosa e sufficiente capacità di empatia mettersi nei panni dell'altro da riuscire ad investire in maniera matura su un rapporto nel narcisismo patologico le idee di grandezza prevalgono e il narcisismo patologico è destinato a essere frustrato e frustrante perché cerca un amore idealizzato che è impossibile e ha delle aspettative pazzesche che un'altra persona non riuscirà mai a soddisfare dovremmo farci proprio una puntata un po' di approfondimento su questi argomenti perché oggi l'abbiamo un po' visti in maniera diciamo veloce però effettivamente si apre un mondo su ogni domanda che è stata posta oggi da approfondire da appunto secondo me sarebbe molto molto interessante farlo dottoressa l'ultima domanda che poi farò a tutti voi l'amore cura? sì ti fa crescere ti fa evolvere porta salute è importantissimo l'amore e poi c'è un segreto per mantenerci sempre vivi nell'amore il segreto è avere un rapporto con la tua anima con Dio perché si rinnova proprio l'intelligenza nascono delle soluzioni per risolvere i conflitti del divenire quindi mantenere un rapporto con la spiritualità cioè non soltanto è con la comunità essere inseriti in una comunità come parte attiva sostenere le persone allenarsi nelle amicizie non solo nella coppia perché la coppia è intimità ma ci sono forme di bene dove ci sono distanze più lontane quindi le paure dell'intimità ti alleni per poi scendere nella sincerità e fedeltà e il segreto è avere un rapporto con il proprio creatore la parte divina però non tutti i terapeuti accettano questo taglio questa visione diciamo questo aspetto dottore l'amore cura la mia risposta parte dalla letteratura scientifica ci sono articoli recenti che hanno dimostrato che nelle relazioni durature d'amore ci sono dei fattori che potenziano le funzioni del sistema immunitario partendo da questo arrivo a un aneddoto che è quello raccontato nel film A Beautiful Mind la storia di John Nash matematico che ha vinto il premio Nobel che era schizofrenica di schizofrenia divorziò dalla moglie la moglie poi tornò con lui nel 2001 e con la cura e con l'amore della moglie riuscì a guarire praticamente arrivare al premio Nobel la dimostrazione e come ebbe lui stesso a dire da grande matematico è solo nelle misteriose equazioni dell'amore che io ho trovato ogni logica molto bello grazie avvocato l'amore cura qua rispondo non da avvocato da Gianni Pucca da Gianni Pucca non dall'avvocato Giovanni Pucca ma da Gianni Pucca perché io ho sperimentato personalmente che l'amore cura perché quelle poche volte che sono stato innamorato mi capita in media una volta ogni 25 anni di innamorarmi lavori meglio riesce a rendere di più nelle varie passioni sulla passione della pittura per la scrittura le cose più belle le ho fatte quando ero innamorato e quindi deve essere una cura che tutti quanti si devono autoprescrivere assolutamente non bisogna ascoltare chi è stato deluso che poi spesso chi soffre chi è solo cerca di asciugarsi questa sofferenza addosso agli altri e le trasmette agli altri e fa pensare che la solitudine sia una soluzione oppure tradire avere più rapporti paralleli infatti adesso sto scrivendo un romanzo la felicità parallele perché molti hanno solo bisogno di dimostrare agli altri di essere felici magari stanno in un rapporto finto in più rapporti finti perdono quel contatto con se stessi come diceva appunto la dottoressa sono d'accordissimo con l'evoca io ringrazio tutti voi per essere stati qui con noi oggi purtroppo il tempo è quello che è pochissimo quindi saluto tutti i nostri ospiti di oggi il collegamento che abbiamo avuto con Davide Silvestri e Alessia Costantino con i nostri ospiti qui studio la dottoressa Maria Carmina Marzullo il dottor Massimo Lanzaro e l'avvocato Gianni Puca vi aspetto come sempre tutte le domeniche alle 20 qui a Riflessi vi voglio ricordare anche la nostra mail per raccontare una criticità una storia che magari vorreste portare all'attenzione del pubblico redazione chiocciolaprimatv.it ringrazio tutta la redazione di Prima TV per averci sostenuti oggi e vi aspetto anche la prossima settimana domenica a Riflessi arrivederci Autoressi